Pinocchio di Collodi in generale e il paese dei Balocchi in particolare. Ecco, come vedrete, le illustrazioni di questa nostra lezione sono state realizzate da mio figlio, il quale sta nel frattempo completando un'altra illustrazione, che poi sarà terminata la fine. Lasciatelo lavorare in pace, non disturbatelo. Ecco, lo so che è bellissimo, è un illustratore eccezionale mio figlio. Scusate. Adesso parliamo però un pochettino di Carlo Lorenzini, poi dopo magari ogni tanto andiamo a curiosare sul lavoro che sta facendo mio figlio. Ma diciamo due parole sulla letteratura che possiamo definire sicuramente minore per ragazzi. Ecco, questa è letteratura per ragazzi. Nell'Ottocento ci sono stati due grandi autori di letteratura per ragazzi. Uno è Edmondo Diamicis, che ha scritto il libro Cuore, però con molte pretese, tra virgolette, ideologiche. E l'altro invece è appunto Carlo Lorenzini, che invece ha scritto un testo che è un testo conosciutissimo in tutti i paesi, ed è un testo conosciutissimo in tutti i paesi del mondo, a differenza del libro Cuore, insomma. Ed è un classico della letteratura dell'infanzia, della letteratura per ragazzi. Ed è perché è un grande libro, insomma. È un libro eccezionale. Erano molto simili come formazione Edmondo Diamicis e Carlo Lorenzini. Erano infatti entrambi risorgimentali, entrambi anticlericali, eccetera. Anche se nella sua fiaba di formazione, chiamiamolo così, è una fiaba perché c'è la fata, giusto? E ci sono tanti personaggi fantastici. Però anche di formazione, perché c'è un percorso di formazione di Pinocchio e quindi del bambino, del ragazzo, dell'uomo. Emergono elementi della cultura tradizionale, di cui è innervata, volente o analente, la sua formazione. Come chiarisce bene Giacomo Biffi nel suo libro Contro Mastro Ciliegie, in cui addirittura ha fatto un commento teologico alle avventure di Pinocchio. Infatti questo libro ha scatenato tutta una serie di critiche, di interpretazioni diverse, molto molto interessanti, che in parte noi utilizzeremo in questa nostra lezione. Dobbiamo anche spiegare una cosa. Come mai però sul frontespizio del libro c'è scritto Pinocchio di Collodi? Eh, niente, perché lui ha preso questo nome dal paese della madre. Quindi ha usato questo pseudonimo. Ma lui di per sé era giornalista, dicevamo, viveva di altro, viveva anche di giornalismo. Bene, allora dicevamo che questo Giacomo Biffi ha scritto un testo che è intitolato Contro Mastro Ciliegie. Chi è Mastro Ciliegie? Ne parleremo parlando del decadentismo. È il rappresentante del razionalismo positivista. Certo, nella storia, nella fiaba. Intendo dire questo. Come abbiamo studiato già, appunto, l'anno scorso, si è espansa tantissimo l'ideologia del razionalismo, del positivismo, soprattutto, nella seconda metà dell'Ottocento. Questa ideologia era un'ideologia materialista che tendeva a far vedere, a porre l'attenzione, volevo dire, solo sugli elementi tangibili e razionali della realtà. In opposizione a questo modo di pensare, ci sarà poi la crisi del positivismo, appunto, verso la fine dell'Ottocento. Possiamo intravedere già una specie di anticipazione di questo nella fiaba, appunto, di Pinocchio. Infatti, questo tale Mastro Ciliegie pensa che quello sia solo un pezzo di legno e quindi vuole disfarsene di questo pezzo di legno. È la rappresentazione, dicevamo, simbolica di quello che sono, appunto, i razionalisti, i positivisti, i materialisti, eccetera, che guardano la realtà senza cercare cosa c'è al di là della realtà. Mentre il personaggio fortemente opposto a Mastro Ciliegie è Geppetto. Geppetto rappresenta, invece, il padre e rappresenta, quindi, l'umanità di chi sa guardare oltre l'apparenza. Ma, ripeto, questi discorsi noi li approfondiremo molto quando studieremo il decadentismo e quando parleremo, appunto, di questa reazione al positivismo che ci sarà verso la fine dell'Ottocento. Anche se, in un modo, sicuramente, diciamo, un pochettino, appunto, per ragazzi, no? Lo fa intravedere anche Collodi, insomma, nel suo testo. Ci faremo aiutare, dal momento che mio figlio non ha fatto illustrazioni di tutto quanto, il libro di Collodi, ci faremo aiutare anche da Chiostri che ha fatto delle illustrazioni nel 1901, addirittura, più di un secolo fa, della fiaba di Pinocchio. Intanto, mio figlio, però, continua a disegnare. Sì, ditemi, ditemi pure. Una domanda. Geppetto rappresenta il padre. Ecco, Geppetto rappresenta il padre. Quindi, la tradizione, e quindi abbiamo detto anche sicuramente l'umanità, di chi sa vedere al di là di quella che è la realtà apparente. Ecco. E quindi, che cosa fa? Prende questo pezzo di legno e se lo porta via per lavorarlo. E quindi, quel pezzo di legno di cui voleva disfarsi Mastro Ciliegia viene preso da Geppetto con tanto amore, talmente che poi, mentre lo sta lavorando, scopre che questo pezzo di legno parla. E allora decide di... Inizia qui un percorso di formazione di Pinocchio, il quale, ovviamente, deve andare a scuola, dice Geppetto. Se questo è un burattino e vuole diventare bambino, è questo un po' il percorso di formazione che sta dietro tutta quanta la fiaba, bisogna farlo andare a scuola con l'abbecedario, eccetera, eccetera. Il problema, però, è che lui spesso si distrae, no? E segue un po' il suo istinto, no? E quindi si perde, spesso e volentieri. Cioè, però, la voce della coscienza che è rappresentata in questa fiaba dal grillo parlante. E poi ancora c'è un aiutante importantissimo che voi vedremo, è la fata turchina. A un certo punto, però, avviene qualcosa di imprevisto. Cioè, c'è qualcuno che prende, porta via Pinocchio, che, abbiamo detto, è un tipo un pochettino, un po' troppo leggero, e non riesce a capire subito quali sono gli scopi di questo burattinaio, mangiafuoco, che potrebbe essere, invece, rappresentante, per esempio, lo vediamo anche nella nostra realtà contemporanea, di chi sfrutta i bambini, lo sfruttamento minorile. Potrebbe avere questo significato, potrebbe rappresentare il diavolo, ecco, quindi, potrebbe essere interpretato in tantissimi modi. Questa volta, mio figlio ci aiuta, perché lui ha fatto due illustrazioni su mangiafuoco, che, ecco, spesso comunque avviene anche nella nostra società contemporanea, che ci sia qualcuno che tira i fili, cioè che ci usa come delle marionette. Anche questa è un'intuizione interessante che ha avuto Collodi nella sua fiaba, sviluppata anche da Edoardo Bennato, il quale ha messo in musica la storia di Pinocchio, la storia di mangiafuoco, che tira i fili dei suoi burattini. Bene, dicevamo che c'è un'aiutante importantissima, che è la fata turchina, la fata dai capelli, ecco, turchini, quindi azzurri, celesti. Ecco, sicuramente anche questo è stato interpretato da Giacomo Biffi. Siccome, per esempio, Maria, nelle rappresentazioni cristiane, viene rappresentata spesso con questo colore, il colore turchino, il colore quindi azzurro, un azzurro vivace, intenso, eccetera, che rappresenta nell'iconografia proprio il cielo, ecco che c'è stata questa interpretazione teologica della fata turchina. In un altro senso potremmo pensare alla mamma, alla madre, no? Quindi, come abbiamo già detto, Carlo Lorenzini era molto legato, effettivamente legato a sua madre, quindi che completa in un certo senso il binomio parentale dei genitori, se vogliamo, di Pinocchio. E Pinocchio che tutte le volte che, insomma, dice una bugia, si allunga il naso, lo sapete, conoscerete senz'altro questa storia. Arriviamo finalmente al brano che noi troviamo sul nostro libro alla pagina H126, nel senso che la fata turchina, la fata dai capelli turchini, gli ha promesso, ha promesso a Pinocchio che il giorno successivo sarebbe diventato un bambino in carne ed ossa. E lui è contentissimo di questa cosa, sembra essere finalmente convinto a cambiare vita, insomma, a non lasciarsi trasportare dalle tentazioni, ma le tentazioni spuntano sempre. In questo caso la tentazione è rappresentata da un suo compagno, il compagno è Lucignolo, no? Anche qua Lucignolo, Lucifero, e quindi sicuramente ci sono anche nei nomi scelti dai personaggi di Collodi, ci possono essere dei simboli interessanti, il quale dice ma senti, guarda, fai quello che vuoi, domani vuoi diventare un bambino, benissimo, sappi però che io stasera, stanotte, vado a come dire, vado a fare un viaggio nel paese dei balocchi, cioè nel paese in cui tutti i desideri dei bambini si realizzano, là non ci sono scuole e ci si diverte dalla mattina alla sera, non bisogna studiare, non c'è bisogno di abecedario, eccetera, eccetera. E Pinocchio sulle prime cerca di resistere a questa tentazione, cioè di dire ma no, io ho promesso alla fata turchina che voglio studiare, che voglio impegnarmi e domani diventerò appunto un bambino in carne ed ossa, però gli rimane comunque il fascino di questa tentazione che è un punto in cui si lascia andare totalmente. Allora Lucigno lo invita Pinocchio nel paese dei balocchi, i due prendono un passaggio di notte su un carro stracarico di bambini ammassati e lazzaroni, con tutti i bambini che non hanno voglia di studiare. Ecco, è chiaro anche ovviamente l'intento moralistico di Dascalico, insomma, di Carlo Collodi che vuole insegnare ai ragazzi quelle che sono sicuramente le cose da fare e quelle che sono le cose da non fare. Una volta arrivati nel paese dei balocchi credono di avere raggiunto i loro sogni, ma dopo cinque mesi di bagordi a Pinocchio spuntano le orecchie di asino e in poco tempo diventa un asino per davvero, venduto al mercato. Anche questo è un simbolo importante. Invece di diventare uomo, come gli aveva promesso la fata turchina il giorno seguente, dopo un po' di tempo diventa un animale, diventa un asino che è l'animale che rappresenta proprio l'ignoranza per Antonomasia, venduto al mercato anche, come vedremo adesso nelle illustrazioni di Chiostri. Tornerà a Burattino solo grazie all'aiuto della solita fata turchina. E allora vedete qua le illustrazioni che ci rappresentano il carro che conduce i ragazzi al paese dei balocchi. Intanto però, scusate, ma mio figlio sta quasi terminando il suo quadro. Poi ancora vediamo questa volta mio figlio che ci ha rappresentato l'ingresso di Pinocchio nel paese dei balocchi che sembra essere proprio, dicevamo, la rappresentazione di tutti i sogni e i desideri dei bambini dove potersi divertire. Poi però si scopre, i due scoprono un brutto giorno che sono spuntate delle orecchie d'asino sulla loro testa di Pinocchio e di Lucinio. Addirittura Pinocchio viene venduto e fa il somaro il ciuchino insomma proprio al circo. Per fortuna poi però è aiutato dalla fata turchina è liberato ma si caccia ancora in tantissimi guai. È uno degli ultimi guai e adesso finalmente andiamo alla fine del nostro percorso uno degli ultimi guai è quello di capitare appunto dentro la pancia di un pesce così l'ha rappresentato mio figlio. Ecco finalmente adesso abbiamo scoperto il disegno che stava facendo mio figlio così è una sua interpretazione invece di rappresentarlo come una balena il ventre eccetera eccetera l'ha rappresentato in questo modo per fortuna però poi anche da questa ennesima ultima avventura riuscirà a liberarsi Pinocchio il quale sarà accolto da suo padre appunto cioè da Geppetto che lo farà diventare un uomo verso la fine della storia.